L'opposto dello slogan Tabor Televita a Biribanti, una prestazione che possiamo dividere in due fasi, un primo set veramente negativo con numerosi errori, poi c'è stato un crescendo e con questo finale sfortunato che ha impedito se non altro allo slogan Televita di conquistare il primo punto. Sì, in un punto ci meritavamo tutto, se non altro per la costanza e per aver recuperato l'inizio non proprio brillante, però partiamo da questi ultimi due set per questo campionato, la squadra è totalmente nuova, stiamo lavorando bene in palestra, abbiamo ancora un po' di rumore a reiniziare come l'anno scorso che comandavamo la classifica dall'inizio, quest'anno è un campionato totalmente diverso, però ce la stiamo mettendo tutta. Rispetto agli anni passato l'allenatore ha una varietà di scelta notevole, anche oggi ci sono stati numerosi cambi e chi è subentrato ha fatto un'ottima partita? Sì, ma è quello che cercavamo di portare quest'anno, dei cambi che ci dessero degli aiuti in caso ne avessimo bisogno e anche per allenarci bene durante la settimana. La squadra è lunga, la panchina è lunga, il campionato è lungo, perciò avremo bisogno di tutti. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è come l'anno scorso, dire la nostra, tra le prime 5 del campionato.